A Festival Letteratura tu sei tra gli autori chiamati a valutare le proposte di reportage narrativo per il concorso meglio di un romanzo in bozze. Se è vero che il racconto valorizza la notizia, è vero anche il contrario? Che rapporto c'è tra invenzione e realtà nei tuoi romanzi? I romanzi nel caso specifico che mi riguarda per me sono sempre realtà, ovviamente io mi muovo anche su un confine molto labile fra sanità e patologia, perché io i personaggi che racconto spesso me li vedo accanto, ci mangio la mattina, vado a letto insieme, mi sveglio con loro. Infatti ho fatto anche questa riflessione insieme a una dei partecipanti del progetto che aveva una vena narrativa particolarmente fervida e l'ho detto, i personaggi, secondo me quanto più tu li ritieni vivi, tanto più sono più facili da raccontare. Quindi se è invenzione in realtà, tutto in realtà anche se poi è tutto invenzione. Perché i tuoi libri sono in gran parte ambientati nel sud Italia e hai scelto di narrare la provincia ferita dall'industrializzazione? Ma in realtà più che raccontare, sento sempre la regola aurea, insomma, di racconta ciò che sai o ciò che senti. Il sud in realtà è una sud, come direbbe Vittorio Bodini, c'è un sud legato più a uno stato mentale che a uno stato geografico. Anche quando racconto una storia ambientata magari a Parma o ambientata a Milano come in foto di classe, in realtà il sud emerge attraverso altri dettagli che sento appartenere a me come qualcosa di interiore e non qualcosa di esteriore. Poi sul fatto che il sud è ferito dall'industrializzazione direi che più che ferito è proprio ucciso dall'industrializzazione a volte. Dal tuo romanzo Il paese delle spose infelici è stato tratto un film diretto da Pippo Mezzapesa. Come giudichi l'esperienza di vedere il tuo libro trasposto al cinema? Ma guarda, io ho sempre detto che vedere quel film per me è stata la più costosa seduta di analisi della storia perché ovviamente dipende da quali analista frequenti. Il tipo di analisi, diciamo che era un approccio molto freudiano è stato vedere quel film perché il regista pur avendo totalmente riscritto il libro dal punto di vista cinematografico ed essendosi fermato a pagina 78 quando il libro prosegue fino a pagina 250 però è riuscito a dare quelle stesse atmosfere e a farmi rivivere l'età dei protagonisti perché i protagonisti avevano 16-17 anni che è un periodo in quale succedono tante cose. E quindi per me è stata proprio una seduta di analisi, ne sono uscito ovviamente come quando è uscito una seduta di analisi quindi è totalmente devastato e totalmente però allo stesso tempo anche riempito. Tu sei stato tra i promotori di Generazione TQ, un movimento di intellettuali 30-40 anni che ha cessato l'attività un anno fa. Credi ancora nella possibilità per l'intellettuale di trovare una via di intervento nella realtà? No. Quali sono i tuoi autori e i tuoi romanzi di riferimento? Ma, milioni. Ti posso dire che il mio scrittore che leggo di più, il classico dei classici, per me è sempre Kafka e poi un altro scrittore preghese che è Bumi Rabal e poi visto che sono pugliese non faccio mai a meno di Vittorio Bodini e ho sempre le sue poesie che mi porto dietro in qualunque posto io vada. Il tuo ultimo romanzo è Il libro dell'amore proibito e narra della passione tra un ragazzo adolescente e la sua professoressa. Qual è o qual è stato invece il tuo amore proibito? L'inizio è molto, molto, tanti, veramente da, 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 potremmo finire domani, quindi è sempre no risposti. Grazie.